eccomi qua ciao a tutti siamo arrivati alla seconda gara Le Mans circuito storico è ormai attivo da metà degli anni 60 quando ero piccolo avevo un desiderio correre almeno una volta alla 24 ore di Le Mans e nel 2012 ho realizzato questo mio piccolo sogno partecipando a questa gara arrivando anche quinto nella categoria EVC che dire è stata un'esperienza incredibile bellissima non vedo l'ora di tornarci con la moto e in particolar modo per affrontare il primo curvone che è una curva da pelo perché arrivi dal rettilineo e fai questa staccata in angolo che è veramente tosta e divertente quindi che dire seguitemi ciao a tutti